Tremenda debacle del Fiorenzuola, affossato da tre reti da una spietata folgore caratese che approfitta della giornata nera della squadra di Mantelli. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con i valdardesi vicino al gol con Castagna, buon intervento di Martinez a tu per tu con l'ex Lecco, gli ospiti rispondono con Santo Nocito, che sfiora il palo con un bel sinistro a giro. Tutto qui un primo tempo in cui il tecnico di casa si affide a Girometta e Castagna, mentre relega in panchina Morga. Il primo cambio, operato dall'allenatore ad inizio ripresa, si rivela disastroso. Fuori sereni, dentro Donati, e sulla corsia dell'ex Parma prende avvio lo show di Cesana, che prima firma un Eurogol al termine di una splendida azione conclusa da un grandestro, e poi propizia il raddoppio con Santo Nocito, che chiude un contropiede a supervelocità. A questo punto dentro Morga per Molinelli, ma il fiore è alle corde, e al ventunesimo la folgore caratese, ancora con Santo Nocito, mette a segno lo 0-3. Colpo tremendo, dal quale Guglieri e soci provano a rialzarsi al ventisettesimo. Fucilata di Morga, respinta dal portiere, e tapin vincente di Castagna. Nel quarto d'ora finale, però, non accadrà più nulla, se non un destro violento di Franchini, disinnescato da Martinez in pieno recupero, e un pallone sciupato da Morga in mischia. Una sconfitta pesantissima nella corsa salvezza per un Fiorenzuola atteso domenica prossima dalla trasferta di Inveruno.